Allora, cosa ne pensi di questo combattimento? Beh, che dire, è stato in assoluto il combattimento che ho vissuto meglio, il cui mi è piaciuto di più perché è stato molto tecnico, magari qualche volta un po' sporco purtroppo perché non siamo ancora proprio professionisti, però ho visto da parte mia un incontro che finora non ho mai fatto in livello di tecnica. E devo dire che è stato uno degli incontri più belli di questa sera. Cosa ne pensi di questo incontro? Sei contento dell'opinione dei giudici o ti senti? Sono molto soddisfatto, mi aspettavo di andare un po' meglio, però l'avversario era molto preparato tecnicamente e anche di fiato e mi attendo ai giudici. Ma io concordo effettivamente, giudicare il vostro incontro è stato veramente difficile perché siete stati bravissimi entrambi, tu cosa ne pensi? Complimenti a entrambi, grazie ragazzi, grazie Nadia. I prossimi impegni? Che non ci chiamano, siamo pronti. Tu invece Riccardo, prossimo appuntamento? Io sono sempre legato fedelmente alla Combat League che finora mi ospita i vostri stupendi e rimarrò figliato a lei. Grazie alla Combat League e grazie anche a Enrico e a Lefuli per ospitarci una volta al mese.